Il mio amico Arnold Schwarzenegger oggi mi ha dato tre interessanti consigli. Sì, proprio Schwarzenegger, l'ex Mr. Muscolo, no, era Mr. Universo, sì, Mr. Universo, governatore, poi si è rivelato un uomo intelligente, dalle idee per niente scontate. Le persone che mi seguono giornalmente, se ce ne sono, sapranno che qualche tempo fa mi sono abbonata alla newsletter di Arnold Schwarzenegger, un po' così per scherzo, perché immaginavo che mandasse informazioni su come fare le flessioni, su come fare gli addominali, invece naturalmente è una cosa completamente diversa, anche interessante. E diciamo che adesso ogni giorno, quando mi compare nella lista di mail ricevute, quella di Arnold Schwarzenegger, mi fa sempre sorridere perché mi piace che Arnold mi scriva. E in una degli ultimi newsletter, quella di ieri, ci sono delle informazioni che mi sono presa la briga di leggere, perché di solito la apro, vado su, scorro molto molto velocemente poi la cestino, invece oggi mi sono presa la briga di leggere. E da delle informazioni, diciamo, interessanti, alcune abbastanza scontate, cioè cose che già sapevo, però voglio condividere con voi queste perle di saggezza di Arnold, che prende molto a cuore la mia salute, il mio stato fisico, mens sana, incorpore sano, e insomma, ora ve le dico. Allora, prima di tutto mi ha raccontato che la dopamina è molto importante per il benessere fisico e psicologico, è che si può avere una scarica di dopamina facendo delle attività artistiche, che non bisogna essere dei geni, non bisogna essere dei grandi artisti, ma anche semplicemente dipingere, fare delle cose con le mani. Oggi non mancano certo le ispirazioni, basta andare su qualsiasi canale di YouTube o di Instagram e lì c'è gente che ci spiega come fare tutto e di più. Un'altra cosa per me ancora molto più interessante è quella del debito del sonno. Sapete, quando dormiamo poco diciamo, vabbè, recupero al fine settimana. A quanto pare ci sono delle ricerche che hanno fatto che mostrano come, per recuperare anche una sola ora di debito di sonno, ci vogliono almeno quattro giorni di seguito che si dormono dalle sette alle nove ore. Non ricordo quando è l'ultima volta che ho dormito nove ore. Comunque debito di sonno è una notte quando si dorme meno di sei ore. E queste invece ne ho avuto parecchie. Quindi a quanto pare sono in super debito di sonno. Peccato che quando sono lì sotto le coperte o sopra le coperte, ora che fa caldo, non riesca a dormire perché mi vengono tutti i pensieri nella mente. Ora proverò a seguire il consiglio del mio amico Arnold.